Eccomi raga, allora vi porto con noi a cena fuori, questo è l'outfit di jeans, raga maglietta, i jeans sempre più larghi, li adoro, vabbè, bellissimi, non vedo come entrano quelli sopra la porta però E magliette si sono brutte, però adesso ho queste, l'altra ce l'ho ma non entrano, mi sciolgo i capelli, eccomi qua, e niente, ora però scegliamo il maione, questo È tipo glitterato, non lo so, cioè, lo adoro, prima perché mi sta a largo, diciamo, quindi è comodo, e poi perché è proprio carino, raga, guardate i brillantini, bellissimo, l'aveva regalato mia madre Bello, poi adesso che mi entra, me lo metto sempre, eccomi qua, io che mi vesto, carina, mi piaccio, sì, volevo truccarmi, però ormai raga non mandava, ho detto va bene così Eccomi qua, tadan, è completta, mettiamo il mio profumo preferito, e via, si esce Però basta, vabbè, poco poco, tanto per, ok Ed eccomi qua, ciao, andiamo a mangiare, qui mi era venuta un attimino l'ansia della sedia, raga, cioè, ero un attimo ansiosa della sedia, avevo una paura che mi si rompeva la sedia da sotto, infatti avevo un po' di angoscia Comunque, la prima cosa che ho mangiato è broccoletti e focaccia, poi, da broccoletti, sono passata a, che stavo a fare qui? Ah, ok, i broccoletti, mi stavo a mangiare, con la focaccia, buoni raga, ripassati, questi c'erano, buonissimi, con la focaccia, mangio, mi piace Poi, mi sta arrivando il fame solo a guardarmi Altri broccoletti, poi, vabbè, abbiamo ordinato altre cose, abbiamo ordinato gli arrosticini, qua stavo a cena con i miei genitori, quindi abbiamo preso anche gli arrosticini E i broccoletti, vabbè, la focaccia, dai rosticini me ne sono mangiata, mi sembra cinque Sì, se non sbaglio, cinque rosticini E, vabbè, altri broccoletti, tutta la porzione di qua, i broccoletti era la mia Vabbè, non so che dire, altri rosticini Qua a me era cascato, però, vabbè, è super felice, perché io adoro gli rosticini Infatti, ecco, il balletto da felicità, altri rosticini Oddio, che c'ho a me esidenti? Ah, vabbè Patatine fritte, ok, stavo guardando sera Abbiamo preso anche le patatine fritte, ovviamente, sì, qua levo il sale, laga E, comunque, ecco, levo il sale non perché erano salate, perché a me piacciono le patatine così, senza sale Un pochino sì, però, vabbè E qua, vabbè, abbiamo preso pure un po' di maionese Era una porzione divisa in quattro di patatine, quindi Patatine, e qua mi sono ordinata la griscia Oddio, il piatto che, sì, due, tre volte mi ha fatto così Perché volevo un zupparlo dentro al parmigiano Dunque, raga, la griscia, mi sono mangiata, un piatto di pasta E, mangiamo, mangiamo Raga, quant'era buona, c'era il guanciale, raga, buonissimo, col pecorino Cioè, vabbè, ma che ve lo dico a fare? Super, eh, buono Buono, buona, buona, buona Sto a casa e c'ho fame Vabbè, qui intanto chiacchieravo, parlavo, e... Niente Il king si è preso risotto a crema e scampi Mia madre, mio padre e la matriciana E io ho detto, beh, sai che c'è? Griscia, buona Raga, buonissima Era molto cremosa, cioè, super buona Adoro, mamma mia E poi mi sono presa il dolce Che non l'ho mangiato tutto quanto Perché no Punto e basta E ora vi faccio vedere perché Gliel'ho dato al king Ovviamente ora non mi crederete Però vi faccio vedere il king mentre mangia il mio metà dolce L'ho mangiato metà, sì Perché ero già piena Ed ecco qua Un king che mangia il mio dolce Ciao ragazzi, vediamo su IG Su TikTok Ciao Ciao